Oggi sono particolarmente soddisfatto perché il Consiglio regionale ha approvato la legge sul turismo itinerante. Io ringrazio naturalmente tutti i consiglieri di maggioranza che hanno condiviso con me questo progetto e ringrazio anche i consiglieri di opposizione che comunque con i loro contributi, con le loro dichiarazioni hanno sicuramente arricchito la legge. Questa legge parte prima del Covid perché noi riteniamo che l'Abruzzo si debba presentare a livello nazionale e internazionale come una regione accogliente, una regione che ha le sue infrastrutture, una regione pronta ad ospitare i turisti di un particolare settore, il turismo in plein air, che è un turismo che impiene espansione. Sicuramente nel nord Europa questo turismo rappresenta forse la prima forma di svago, di momento di riposo per le famiglie. È naturalmente una legge che guarda soprattutto anche ai borghi interni, tant'è vero che nella legge si dà preminenza e ai piccoli comuni sotto a 5 mila abitanti per quanto riguarda l'installazione e le realizzazioni di queste aree di turismo accogliente. Cosa dire? Sono soddisfatto perché per la prima volta una regione mette a disposizione dei comuni, quindi sono aree comunali, non sono aree private, degli spazi per poter ricevere i turisti. Quindi diamo i contributi per realizzare questa area, cioè in pratica il comune può contribuire e può avere la capacità di poter sostenere economicamente questo importo, questa spesa e la regione è vicina ai comuni, come da sempre, è per l'esperienza di sindaco di una comunità, ma soprattutto come amministratore regionale che deve essere vicino ai sindaci, agli amministratori delle piccole comunità. Inoltre c'è un'altra grande novità, è quella che vuole essere uno spazio anche per un primo intervento di protezione civile, sapete tutti oramai, sappiamo tutti che oramai l'Abruzzo per la sua fragilità molte volte ha necessità di ricorrere alla protezione civile per i vari eventi atmosferici, avere la possibilità di realizzare queste aree turistiche, queste aree camper, dà la possibilità di avere un primo punto di soccorso di protezione civile. Io mi auguro che i sindaci siano particolarmente soddisfatti di questa legge, sicuramente l'abbiamo prodotta e iniziata a progettare prima del Covid, questo a significare che noi stavamo guardando alla riscoperta dei borghi più piccoli, alla riscoperta del mondo ambientale, di un mondo da vivere a dimensione uomo e penso che siamo stati lungimiranti per far sì che i nostri borghi interni possano essere visitati da tantissimi turisti.